Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Davanti a noi abbiamo il catalogo C11 di Stenom con offerte ordinabili dal 18 fino al 28 di luglio. Apriamolo subito per scoprire tutte le novità e super offerte che ci riserva Stenom. La prima offerta aprendo il catalogo è sul Super Ant & Roach Killer da 300 ml, è un insetticida contro insetti volanti e striscianti, addio agli insetti per 160 ore, è un presidio medico-chirurgico, lo possiamo utilizzare sia per ambienti interni e sia per ambienti esterni, in offerta col 50% a soli 6,50€. Passiamo al bucato e vi lascio qua nelle schede il video dove vi mostro tutti i prodotti che utilizzo per il mio bucato macchiati Stenom. Abbiamo in offerta i Pursoft che sono ammorbidenti concentrati da un litro che proteggono le fibre e le stampe sui capi, morbidezza estrema e profumazione irresistibili. Abbiamo tre profumazioni disponibili, l'uno a soli 6,50€. Altri prodotti in offerta sono ad esempio il Daily Wash che è un detersivo bucato bianchi e colorati, tre profumazioni disponibili, un litro e mezzo di prodotto all'interno di ogni confezione a 11,50€ l'uno. Un altro detersivo è il Prime Wash che è un detersivo bucato concentrato bianchi e colorati, efficace in lavatrice già a 20 gradi, ha una performance antimacchia e elimina anche le macchie incrostate e difficili come erba, tè e caffè grazie ad enzimi di nuova generazione. Un litro di prodotto ha soli 10,90€. Passiamo a un additivo che è il Color to Color ed è un additivo di lavaggio protezione colori da un litro, evita la cernita del bucato, dona colori intensi e brillanti, un litro di prodotto ha soli 12,90€. Poi abbiamo un detersivo esperto sintetici che è il Modern Wash, ideale per indumenti sportivi, cabince e costumi da bagno. Lava con efficacia e toglie i cattivi adori dai capi sintetici e rispetta lo stato originario delle fibre mantenendo elasticità e morbidezza. 750 ml ha soli 9,50€. Passiamo a una super offerta di un prodotto che vi ho parlato nei top 5 di Stenom che vi lascio qua nelle schede e sono le Magic Spiral, spirali disincostanti multisuperficie. All'interno di ogni confezione ne abbiamo due prezzi e grazie al loro acciaio inossidabile hanno una maggiore resistenza alla corrosione. Uno ha soli 7,90€ mentre due confezioni in offerta top set ha 11,90€. Ideale per pentole, padelle, lavello e stoviglie. Passiamo a un prodotto per la lavastoviglie, vi lascio qua nelle schede i prodotti che utilizzo per lavare i piatti in lavastoviglie marchiati Stenom. Abbiamo in offerta il Gish Gel che è un gel lavastoviglie tutto in uno, tutto in uno perché ha tre azioni, detergente brillantante e sali rigenerante. Ha una tecnologia anti odore nel suo profumo per eliminare i cattivi odori all'interno della lavastoviglie, infatti elimina gli odori anche più persistenti. È efficace anche a basse temperature, ad esempio 45 gradi centigradi, 720 ml a soli 10,90€. Un altro prodotto per la lavastoviglie è lo Shine Booster che è un bilantante lavastoviglie da 750 ml che aiuta nella fase di disciacquo delle stoviglie in lavastoviglie. Adatto anche per lavaggi in basse temperature a soli 9,90€. Continuando con dei prodotti per la cucina abbiamo un super set. All'interno di questo set abbiamo Multi Surface che è un pulitore cucina da 500 ml e poi abbiamo il De-Greaser che è uno sgrassatore concentrato stoviglie e superfici. Infatti lo possiamo utilizzare come sgrassatore puro o diluito oppure per lavare le nostre stoviglie a mano. Tutte e due a soli 17,90€. Vi consiglio per Multi Surface di acquistare a parte Trigger che è il nebulizzatore per flacone di dicarica a soli 1,90€. Abbiamo due panni in offerta per le nostre pulizie, ad esempio il Soft Plus che è un panno in microfibra per le pulizie da cucina. Il panno è 32x31 cm e ha una grande capacità di assorbimento a soli 10,90€. E poi abbiamo la Kitchen Sponge che è una spugna double face in microfibra. Ha una parte grattante e una parte in microfibra. La parte in microfibra per assorbire i liquidi e i grassi è un lato grattante per staccare lo sporco incrostato e ostinato. A soli 8,50€. Window Spray che è un pulitore vetri, interni ed esterni. Grazie alla potenza dell'ammoniaca scioglie senza fatica lo sporco incrostato dai vetri. Ha una formula speciale con azione a lunga durata. Ritarda la rincomparsa dello sporco quotidiano, ad esempio polvere e calcare. In offerta set 3 a soli 19,99€. Passiamo al bagno e abbiamo 3 prodotti in offerta. Il primo è il Bat Cleaner che è un pulitore quotidiano bagno, elimina lo sporco quotidiano, un litro di prodotto a soli 12,00€. Poi abbiamo Deep Gel che è un gel disincrostante superfici bagno, ha un potere disincrostante, bassano poche gocce a soli 8,90€ a 750ml. E abbiamo Anti-Calc Spray che è un anti-calcare potente, ridona la brillantezza delle superfici opacizzate dal calcare lasciando una pellicola protettiva. Ha soli 7,90€. Anche per questo vi consiglio di acquistare Triger a parte. Passiamo alla disinfezione. Abbiamo in offerta il Sunny VC che è un gel VC disinfettante e disincrostante. Pulisce, disinfetta e scioglie il calcare in un solo gesto e ha una formula in gel che aderisce molto bene alle pareti. Elimina fino al 99,9% dei batteri a soli 8,90€. Ritornando al bucato abbiamo il Sunny Soft che è un disinfettante ammorbidente concentrato, presidio medico chirurgico. Elimina il 99,9% dei batteri a soli 10,90€ ed è un litro di prodotto. Come deodoranti abbiamo in offerta gli air spray che sono deodoranti in spray che neutralizzano immediatamente i cattivi odori e anche i più tenaci e danno un'azione a lunga durata. L'air spray lascia un profumo gradevole agli ambienti interni anche dopo un'ora. 250 ml abbiamo due profumazioni disponibili a soli 11,50€. Per spolverare abbiamo un super set. All'interno di questo set troviamo Mupen Duster che è un rigeneratore di efficacia per accessori in tessuto da 400 ml. Fino a 9 giorni senza polvere e un gesto ultra rapido per un risultato ottimale a lunga durata. E possiamo utilizzarlo con il panno Dust Cloth, un panno in microfibra con un tessuto double fast. Fibre corte per le superfici lisce e fibre lunghe per raggiungere gli spazi più piccoli. Il panno è 40x40 cm come dimensione, tutti e due a soli 16,90€. Passiamo alle pulizie pesanti e abbiamo in offerta il Fireplace Cleaner 500ml, un pulitore caminetti, stufe e barbecue da 500ml. Elimina fuligine e grasso bruciato per caminetti, stufe, griglie e barbecue. Pulisce anche i vetri dei caminetti senza lasciare aloni a soli 12,90€. E per quanto riguarda la lavatrice e lavastoviglie abbiamo lo Shine Booster che è un pulitore totale di questi due elettrodomestici. Ha una formula liquida, rapida di soluzione e zero residui. Ideale anche per le guarnizioni, per eliminare le tracce di sapone e di sporco. 500ml a soli 7,50€. Ritorniamo al programma fedeltà praticità in vacanza di cui vi avevo parlato già in C10 nel catalogo, ve lo lascio qui nelle schede. Completa la promozione, acquista a scelta un prodotto da pagina 30 a pagina 45 e subito per te la borsa Riviera a soli 9,90€. Copriamo subito i prodotti per avere questa borsa. Il primo è questo set di Sunny Clean che sono panni speciali pavimenti riutilizzabili innumerevoli volte. Con la promozione 1 più 1 gratis ne avremo 2 a soli 14€. E li possiamo utilizzare ad esempio con i Multi Floor che sono pulitori concentrati pavimenti. Puliscono e sgrassano efficacemente tutti i tipi di pavimenti. Una tecnologia anti odori nel profumo. Due a soli 17,90€. Tornando a Bucato abbiamo un'offerta set su questi due prodotti. Il primo è Aquila AUN che è un detersivo per lana e sintetici. Ha un'azione anti peeling ovvero anti palline e anti infretimento per preservare la morbidezza e lo stato delle fibre. Lo potete utilizzare sia in lavatrice sia a mano. Un litro di prodotto e lo avremo in offerta insieme a Laundry Soap che è un sapone sobilido, smacchiatore e bucato. Elimina con efficacia le macchie più difficili e incostate ed è un sapone da 100 grammi. Tutte e due prodotti a soli 14,50€. Nella linea Chiotis abbiamo il gel mani al limone che lascia le mani morbide e pulite, avvolge le mani in un velo profumato e senza risciacquo. 50 ml, 3 confezioni in offerta set a soli 13,90€. Nella linea Chiotis abbiamo la crema lifting colle décolleté con vitamina B3 e biopelimero di mandorle dolci da 50 ml a soli 17,90€. Un prodotto della linea Flormar Makeup è il Big & Bold Waterproof Mascara 14 ml, un mascara appunto waterproof con effetto volume, lunga durata e una texture cremosa, perfetto per le tue giornate in mare e in piscina. Applicare più strati per un risultato più efficace a soli 12,90€. Passando alla linea Stenon Family Expert abbiamo due prodotti della linea SOS Care in offerta set, ovvero il No Insect, che è un insetto repellente eco-spray, protegge dalle zanzare comuni e tigre ed è un presidio medico chirurgico da 100 ml. Insieme a Cool & Calm, che è un gel al mentolo con proprietà allenative e rinfrescanti, allieva immediatamente la sensazione di prurito dalle piccole punture di insetto, grazie agli estratti di amamelidi e liquidizie da 50 ml. Tutte e due a soli 13,50€ e gli ultimi prodotti per avere la borsa Riviera a 9,99€ sono i deospray, ovvero deodoranti 48 ore, che idratano, leniscono e preservano il naturale processo di traspirazione. Hanno un pratico formato da 100 ml che possiamo portare anche in vacanza, disponibili in tre tipologie, due in offerta set a soli 14,90€. Altri deodoranti in offerta sono quelli roll-on, antitraspirante, morbidezza 48 ore e antialone, in due tipologie diverse, 50 ml, a soli 9,50€. Per i capelli abbiamo due prodotti in offerta, il primo è il Repair Shampoo, che è uno shampoo nutri-riparatore per capelli secchi e rovinati, anche dal sole e dalla salsedina ad esempio, 200 ml, a soli 8€. E possiamo utilizzarlo insieme al Repair Mask, che è una maschera nutri-riparatrice da 150 ml, per capelli secchi, molto secchi e rovinati, con burro di karité. Una maschera due in uno che nutre e ripara, a soli 9,50€. Abbiamo in offerta il nostro famosissimo cremone, che è una crema ricca nutriente, ovvero l'Hour Purpose da 300 ml. Nutre e ripara la pelle del viso e del corpo, a soli 12,90€. Speciale fragranza all'avena, abbiamo due prodotti, ovvero il Soft Shower, che è un gel doccia corpo e viso, da 740 ml, a soli 13,50€. E abbiamo il Family Shampoo, che è uno shampoo delicato per uso frequente per tutti i tipi di capelle. 400 ml, a soli 10€. Tutti e due i prodotti, a soli 17,50€. Passiamo alle mani, abbiamo l'offerta Land Cleaner da 300 ml, è una formula senza solfati e senza sapone, e deterge delicatamente, lasciando sulle mani un profumo fresco, grazie all'estratto di aloe vera, a soli 6,90€. Oppure abbiamo il formato Refill da 600 ml, con questo possiamo ricaricare due volte il nostro flacone, a soli 9,90€. E poi abbiamo il Cool Epid, che è un gel freschezza gambe e piedi da 200 ml. Grazie alla formula arrecchita con estratti di canfora e mentolo, lenisce le gambe e rinfresca i piedi. 200 ml, a soli 7,90€. Passiamo alle protezioni solari, abbiamo in offerta la Sun Protector SPF 50 Roll On da 50 ml, una protezione molto alta, water resistant e ideale per i bambini, a soli 11,50€. E poi abbiamo la Sun Protector SPF 50, una protezione molto alta, senza profumo, 125 ml a 11,75€, mentre la SPF 30, sempre da 125 ml, a 16,45€. E come dopo sole abbiamo l'After Sun Extra, un gel fluido idratante dopo sole per pelli arrossate, viso e corpo ed è resistente all'acqua. Ha una texture fluida in gel a soli 9,50€. Passiamo ai prodotti Chiotis, il primo prodotto in offerta è lo Struccante Bifase Waterproof per occhi e labbra alla lavandra. Strucca immediatamente, con dolcezza, adatto anche per occhi sensibili, con la promozione 1 più 1 gratis, l'avremo 2 a soli 12,90€. Passiamo ai rituali, abbiamo in offerta il trattamento idratante viso alla palmarosa, 50 ml a 17,90€, mentre la crema idratante corpo da 200 ml a 12,50€. Infine di questa linea abbiamo lo spray per cuscino da 100 ml, sempre a 12,50€. Per quanto riguarda la linea al limone, abbiamo il gel idratante corpo 150 ml a 12,50€, mentre l'acqua profumata da 98 ml a 12,90€. Infine abbiamo la linea mandarino e jutsu, abbiamo il latte corpo 220 ml a 11,00€, mentre il gel dolce e sfogliante 200 ml a soli 6,00€. Abbiamo diverse fragranze in offerta, ad esempio a 19,50€ troviamo Petite Bouquet da 50 ml, e Pur Considence, Sweet Folie e Plus d'Amour, tutte quante sono da 50 ml. Mentre a 16,95€ abbiamo Tutest Possible 50 ml, mentre a 15,95€ Immagine Reverse Cree a 50 ml. Altri profumi in offerta sono quelli da uomo, li troveremo l'uno a 23,50€, tutti sono da 100 ml, abbiamo Force Plus, Vertiche, Vendu Desert e Pur Lui. Un'altra promozione per quanto riguarda l'uomo sono i deodoranti 48 ore da 100 ml, sono anti-alone con agli oli essenziali, due in offerta set 1 più 1 gratis a soli 16,90€ della linea Home. Gli integratori li abbiamo in offerta all'uno a 23,90€, abbiamo quello Detox e quello Relax. Passiamo alla linea Chenesse Revelé, abbiamo l'olio in perle, sono 42 perle all'interno a soli 29,90€, e poi abbiamo il balsamo struccante da 100 ml a soli 14€. Vi lascio qua nelle schede il video dove ve lo mostro in azione. Nella linea Lift Parfait abbiamo 4 prodotti in offerta, il primo è il latte detergente levigante 100 ml a 11€, abbiamo il contorno occhi 15 ml a 21,50€, mentre le creme viso le avremo l'una a 28,90€, abbiamo quella giorno e quella notte rassodante. Passiamo alla linea Dottor Pierricot e abbiamo due prodotti in offerta per quanto riguarda il trattamento lifting rassodante, ovvero la crema lifting niacinamide 40 ml con frazione pura di lino e annetto 47,90€ e il siero 30 ml a 44,90€. Nella stessa linea abbiamo in offerta anche la maschera lifting effetto tensore rapido 50 ml a soli 19,50€. Poi passiamo alla linea antiossidante e levigante con un effetto glow, abbiamo appunto la crema da 40 ml a 47,90€ e poi abbiamo la maschera glow 50 ml in edizione limitata a soli 20,90€. Per quanto riguarda il trattamento levigante anti rughe abbiamo due prodotti in offerta, il primo è il trattamento anti rughe barriera antistress con un concentrato di acidi ialuronici, sono 4 ampolle da 10 ml a soli 47,90€ e poi abbiamo il contorno occhi della stessa linea a 15 ml a 23,90€. Anche della linea dottor Pierricot abbiamo i solari, ad esempio la crema anti rughe SPF 20 all'acido ialuronico e peptidi sublimatore di abbronzatura per quanto riguarda il viso, 40 ml a soli 21,50€. Poi abbiamo la crema frondente SPF 50 da 50 ml a 14,90€, mentre quelle da 125 ml protezione 30 e protezione 50 l'uno a soli 17,50€. Come doposole abbiamo il fluido doposole idralenitivo 30 ml a 14,90€, mentre il latte corpo doposole prolungatore di abbronzatura 200 ml a 12,90€. Continuiamo con il trattamento antimacchie, abbiamo la crema nutrirequilibrante antimacchie anti rughe 40 ml alla provitamina B5 e peptidi di carciofo 47,90€ e il siero della stessa linea 30 ml 54,90€. Per una base levigante abbiamo il contorno occhi 15 ml al biopolimeno di mandorle d'orce e scina 15,90€ e il fluido levigante 30 ml a 23,90€. Questi due prodotti li possiamo acquistare in offerta set tutte e due a 32,40€. Passiamo al make up con la linea Flormar e abbiamo in offerta la Bronzing Powder che è una terra abbronzante viso e corpo, con una texture setosa e vellutata che dona alla pelle un colorito naturale abbronzato ed è perfetta per il contouring. Ideale per tutti i tipi di pelle, due colorazioni disponibili a soli 8,91€ e sono 11 grammi. Continuando con le polveri abbiamo la Comfort Powder che è una cipria compatta, dà la texture sottile e setosa e facile da applicare. Tre colorazioni disponibili 11 grammi a soli 10,50€ e poi abbiamo i blush on che sono blush semi cremosi dalla fetta naturale e sano. Tre colorazioni disponibili 6 grammi l'uno a soli 8,90€ e come correttoni abbiamo in offerta l'iPuff Concealer che è un collettore liquido con un applicatore in spugna che dà una facile applicazione e una copertura da leggera a media. Tre colorazioni disponibili 3 ml l'uno a soli 9,50€. Passiamo alle labbra abbiamo i lucida labbra effetto ruggiata Daywee Lip Glaze, 6 colorazioni disponibili 4,5 ml l'uno a soli 5,90€ e possiamo contornare le nostre labbra grazie alle waterproof lip liner che sono matite a lunga durata. 7 colorazioni disponibili l'uno a 4,90€. Passiamo agli occhi, in edizione limitata abbiamo le Extreme Tattoo Gel Pencil che sono matite in gel effetto tattoo per un colore uniforme e intenso in una sola applicazione. 6 colorazioni disponibili a soli 9,90€ e come ombretti abbiamo gli ombretti stilo occhi color shadow stick. Sono waterproof, non vanno nelle pieghe degli occhi e sono un prodotto sicuro per occhi sensibili. Sono ombretti in crema dall'incredibile versatilità, facili da sfumare e stratificare. 6 colorazioni disponibili a soli 11,90€. Altre matite in offerta sono le Smoky Eye Eyeliner. Sono matite waterproof e smetto effetto Smoky. Hanno una formula altamente pigmentata, arricchita con vitamina E e olio di jojoba per un tratto morbido e setoso. 5 colorazioni disponibili a soli 7,50€. Un altro mascara in offerta è il Triple Action Mascara da 8ml. È trimlazione perché allunga in curva e volumizza. 8ml a 17€. E come eyeliner abbiamo il gel eyeliner che è waterproof ad alta concentrazione di pigmento, una performance a lunga tenuta e un colore omogeneo e intenso ed è effetto matte. Una colorazione disponibile a soli 8,50€. Passiamo alle unghie. Abbiamo gli smalti classici in offerta. 11 colorazioni disponibili a soli 2,25€. E per chiudere il catalogo abbiamo una super offerta per quanto riguarda il Dry Spray che è un spray a secco disinfettante espresso da 300ml. elimina fino al 99,9% di batteri e di lieviti ed elimina i funghi. 7,90€. Vi ricordo se volete il 18% di sconto su tutti i prodotti Stenon. Vi basterà andare nell'info box, cliccare sul link di Ventasmile, compilare i vostri dati e nel codice presentatrice inserire il mio. Così posso aiutarvi in questa nuova avventura. Per qualsiasi domanda potete scrivermi qua sotto nei commenti oppure nell'info box sempre qua sotto trovate il link dei miei social ovvero Instagram, Facebook e TikTok. Vi ricordo se non lo siete ancora di iscrivervi al canale e di azionare la campanella così da non perdere nessuno dei miei video e se volete ancora vedere i video dei cataloghi Stenon qua sul canale basterà lasciare un bel pellice in su. Vi mando un bacione. Ciao!